immaginate un centro commerciale dove all'interno ci sono solo piccoli negozi di pasticceria ognuno indipendente ognuno che fa le cose a modo suo i prezzi vengono decisi dei pasticceri e va tutto molto bene poi un giorno il gestore del centro commerciale viene e dice ho una bellissima notizia ho visto che non vendete sempre o a volte addirittura vendete un po troppo poco allora vi ho creato un algoritmo che vi suggerisce i prezzi migliori ok tutti lo accettano e questo algoritmo comincia a suggerire prezzi inferiori anche di molto e chi li accetta vende perché l'algoritmo funziona quindi cosa succede i prezzi calano chi non accetta i prezzi l'algoritmo vende molto meno chi li accetta vende ma ha meno poi quando tutti per disperazione abbassano i prezzi quindi passano da una media di 2 euro a un euro e mezzo l'algoritmo cosa dice beh guarda se vende un euro e mezzo sei come gli altri dire vendere un euro e allora via ancora la stessa cosa era evidente tu non puoi suggerire a tutti di abbassare i prezzi e pretendere che poi funzioni è una corsa a ribasso avete capito benissimo che sto parlando dei prezzi smart di airbnb e quindi nonostante airbnb avesse detto che è una tecnologia per migliorare la tua gestione di prezzi in realtà ce li ha abbassati è stata una mossa molto intelligente vi ricordate booking.com col suo miglior prezzo garantito quella regola secondo la quale tu in booking non potevi avere prezzi superiori a qualsiasi altro portale un modo molto antico se vuoi anche arrogante classico di booking di dire tu lavori così o sei fuori airbnb è stato molto più intelligente ha fatto un'operazione di tecnologia e di marketing la tecnologia è questo algoritmo il marketing è l'avertelo venduto come una cosa che ti aiuta in realtà no ci ha fregati ma alla grande ci ha fregati quindi qual era fin dall'inizio la vera intenzione di airbnb non era migliorare la gestione nostra di prezzi era fregare booking o gli altri portali perché adesso airbnb è più economico per i clienti perché come booking.com insegna se tu hai cliente in mano gli altri non possono far niente sapete benissimo quanto vieni maltrattato spesso da booking ecco airbnb sta andando in quella direzione sta sbagliando facendo bene sono cose che sa loro hanno tutto il loro machine learning big data che noi non abbiamo quello che è chiaro che i discorsi di airbnb sulla sharing economy la community sono ormai pura fuffa di marketing almeno questo cerchiamo di averlo chiaro e quindi ragioniamo a partire da questo concetto